E ciao a tutti amici, io sono Axel e oggi Omegato, oggi sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è finalmente un pack opening, perché infatti era da un macello di tempo che non ve ne portavo uno Ma sarà non un pack opening scarso, ma bensì andrò ad aprire all'incirca 20 pacchetti Quindi super pack opening, però per iniziare volevo dire un paio di cose Prima che come sempre volevo ricordare di passare da onefifa.com Se siete interessati con qualche edificio, mi raccomando, utilizzate il codice Axel con due E come discount code Secondariamente vi volevo dire, perché vi volevo spiegare del mio non portare più tanti pack opening su questo primo canale Perché sul secondo canale che si chiama Axel V2 vi sto portando una sorta di mini pack opening ogni giorno Quindi principalmente quello è il motivo Infine vi volevo dire che questo video lo starete vedendo mentre io sarò al Games Week Quindi se lo state vedendo subito è perché non ci siete, quindi non potete vedermi dal vivo Oppure magari qualcuno di voi sta guardando questo video una volta Dio santo, dopo essere tornato a Games Week può anche avermi incontrato Quindi se ti ho incontrato ti saluto, ciao, come stai? Comunque, ma licenza non ci mandiamo Io direi di andare ad aprire il primo pacchetto di oggi Sono abbastanza carico perché finalmente è venerdì, madonna ciabatta Primo pacchetto, oddio che schifo Secondo, secondo, madonna Ma se tipo ci trovassimo JJ 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 Dai Griezmann non guardo Non guardo Eh, dio mio ma è possibile Dai Alaba almeno tu ti prego Dai Alaba Dai Cabella È una bestia però non vale niente Io punto tra l'altro in forno anche questo episodio Non so se lo ce l'ho detto Eden Siete Mi sto già scrutanando tutti i crediti Al tre apro gli occhi Uno, due, tre Madonna ciabatta Dai Howard almeno tu ti prego Dai Howard Dai, dai, dai Chi è Piti Potuk Non ci posso credere Ragazzi Che senso ha questo stile di intesa Basta Dai No spec Del no spec ragazzi Pacchetto bollino Ehi 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 Ah Signori Con il naso Con il naso Prego Ti scongiuro Tula lan 83 Meno Meno costo di tutto il gioco Probabilmente Allora Dai questo lo salto Trucco ragazzi Bisogna andare Sulla squadra della settimana Vedere Diallo Larsson Thompson E Tondi E Agueroif E guardate un po' Che il giocatore uscirà nel primo pacchetto d'oro Che andremo ad aprire Per Rin Yeah Ma dai Fammi trovare un altro Argentino del Barcellona Ragazzi Sapete che io penso di essere uno degli youtuber più sfortunati Sì Dovete sapere Che mi sento fortunato Per me trovo qualcosa Infatti Per Eida Questo pacchetto è ancora più fortunato Costa Che fino a 10 minuti fa Mi sa che era in forma Non è vero E ragazzi Dato che questo pacco opening Sta andando troppo bene Direi di andare per gli ultimi 3 pacchetti Quindi Pepita e Guain Ci farà trovare qualcosa Lo copriamo Lo copriamo E No E ragazzi Questo pacchetto Lo aprirò E lo andrò a scartare Quindi No Incazzi Andiamo ad aprire questo pacchetto Ad aprire Posso la caglia Il pacchetto credo che si stia aprendo Direi senza guardare Di far così Così E così quindi abbiamo scartato tutto E direi adesso Di andare ad aprire L'ultimo pacchetto Con team award Ti prego Ti prego Mia mamma urla Mia mamma urla Ti prego Dio sa Neanche casiglia Scasiglia Che è quello pattone No dai l'ultimo Questo è veramente l'ultimo Questo è l'ultimissimo Questo è l'ultimissimo con Iguain Con Iguain La porta La porta Si è chiusa La porta Si è chiusa I crediti ci van bene Però ragazzi Io Prima o poi Ce la farò trovare un buon giocatore In un video Ve lo assicuro Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Che Se questo video Arriva a 4000 mi piace Lunedì Vi carico Quello che per me È Il mio La squadra migliore Di tutto FIFA Relativa alle skill Quindi the best skill team ever E va Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi E se siete già iscritti Portate i vostri amici Che tra poco Ormai facciamo un impero Perché tra poco Raggiungerò I 100.000 iscritti Quindi mi raccomando Espandete la voce Del mio canale E quindi Passate anche da Onefia.com Se siete interessati A comprare che di FIFA E detto questo Io vi saluto Vi dico potente A fare se Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti